Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono CianCianPochiFan E oggi vi parlerò di una cosa molto bella Si, perchè praticamente ieri ho fatto la richiesta della partnership E ieri sera mi è subito arrivata la risposta Mi è arrivata l'email appunto da questi... Dalla community di... non mi ricordo come Come si chiama, boh? Praticamente mi hanno detto che sono stato accettato praticamente Quindi ragazzi avrò la partnership Diventerò partner di Youtube Proprio così Adesso devo soltanto aspettare che Youtube mi manda il contratto praticamente Il modulo dove c'è il contratto forse Non lo so, mi hanno scritto che passeranno da 3 a 10 giorni per... Cioè mi deve arrivare un'altra email da Youtube che contiene appunto il contratto Però la cosa più importante è che ce l'ho fatta ragazzi Sono partner Certo non c'è ancora l'ufficialità Ma... Cioè perchè quando c'è il contratto diventa proprio ufficiale Però poi... Sono partner praticamente Quindi benissimo ragazzi Ehm... Non me l'aspettavo veramente che... Dopo nemmeno un anno che ho aperto questo canale Diciamo un po' per scherzo Diciamo Sono già riuscito ad ottenere la partnership E' incredibile Certo la partnership Io devo dirvi la verità Non la considero come un obiettivo Quindi per me... Cioè non ho raggiunto un obiettivo avendo la partnership Però la considero come un premio per il lavoro che ho fatto Che ho fatto appunto in questo quasi anno Con tutti i video che ho fatto Lo considero un premio Sì Tutto il tempo che ho passato insieme a voi Bello Anche perchè molti dicono Sì hai la partnership Eh che bello Avrai un sacco di soldi Sì proprio Cioè allora Di soldi Tanti non ne hanno nemmeno Che so Pokémon IT Collection Che ha un bel po' di... Un bel po' Tantissimi iscritti E ha molte visualizzazioni Cioè io con... 350 iscritti 82.000 Ho 390 visualizzazioni Che devo fare Cioè proprio mi daranno centesimi Ma la cosa diciamo più bella della partner È che si possono mettere le miniature È quello che mi piace tantissimo Cioè per esempio L'apertura delle 6 bustine Qua posso metterci una miniatura tutta mia Senza quella del video praticamente Quindi è questa secondo me la cosa più bella della partnership Poi pure mettere il banner Addio Banner se non sbaglio Mi ricordo più come si chiama Comunque Sono partner Yeah Quindi è questa la notizia che vi volevo dare Molti probabilmente l'avranno già letto qua Ho messo... Cosa qua Sì Niente Poi volevo ringraziare I miei 350 iscritti Che sono arrivati oggi Veramente per ora Periodo stupendo per il mio canale Diciamo Infatti ho aggiunto anche qua 350 iscritti Ebbene Dopo ben 15 giorni Sono salito di 50 iscritti Grazie mille ragazzi Adesso puntiamo ai 400 Spero che arriveranno presto Come la partnership Dolle Ok Va bene ragazzi Chiaro... Sì vabbè chiaro 4 minuti Direi che può bastare Appunto volevo soltanto dirvi che Otterrò presto la partnership Ah ultima cosa Presto arriverà Anzi al più presto Perché non so quando Arriverà un'apertura di 10 bustine di Destini Futuri Sì E poi non lo so Qualche volta comprerò anche altre bustine di UEFA Euro 2012 Non lo so però quando Può essere anche che riesco a farmene regalare Sì Ancora regalare Ok Quindi ragazzi Benissimo Io direi che può bastare così Alla prossima Da Ciampo che fanno Grazie mille ragazzi Per Per mi fatto arrivare Alla partnership Ai 350 iscritti Ciao a tutti